La città ritrova finalmente il suo monumento ai caduti della Grande Guerra. Dopo un restauro durato quattro mesi, l'opera di piazzale Risorgimento, di fronte Porta San Pietro, è stata restituita ai lucchesi. Il lavoro è frutto di un protocollo di intesa fra Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il recupero dei monumenti legati alla Prima Guerra Mondiale. L'intervento è costato complessivamente 150.000 euro messi a disposizione dalla stessa fondazione. È un segnale particolare. La storia della nostra città è un punto speciale e dire particolarmente sentito dalla cittadinanza. Noi abbiamo messo mano a questo monumento proprio perché avevamo colto da parte della cittadinanza la voglia, il desiderio di rivederlo. Sicuramente erano molti anni che l'ambiente intorno non era uno dei migliori e quindi ci abbiamo messo mano e finalmente oggi siamo all'inaugurazione. Il taglio del nastro ha visto anche la partecipazione di un picchetto delle guardie d'onore alle reali tombe del Pantheon. L'intervento restituisce così alla piena fruibilità una delle più significative testimonianze legate alla memoria della Grande Guerra attraverso un recupero strutturale ma anche estetico del monumento equestre opera nel 1930 di Alfredo Angeloni e Giuseppe Baccelli ed inaugurato alla presenza del re Vittorio Emanuele III.